Best for Soil. Sovesci e cover crops. Vantaggi e svantaggi. Ciao, mi chiamo Vincent e faccio molte ricerche sull'uso di sovesci per ridurre le malattie trasmesse dal suolo. Pertanto sono consapevole che questa pratica presenta molti vantaggi, ma anche alcuni svantaggi. Saranno presentati tutti in questo video Best for Soil. L'effetto delle cover crops del sovescio non è specifico. Essi possono contemporaneamente avere azione contro una vasta gamma di malattie trasmesse dal suolo. Poiché non hanno una modalità d'azione specifica, è estremamente improbabile che agenti patogeni o nematodi sviluppino resistenza a questi approcci. È un metodo naturale e quindi ampiamente accettato, soprattutto dai consumatori e dalle organizzazioni ambientaliste. Nelle rotazioni con un gruppo dominante di specie vegetali, ad esempio diverse specie di brassica, in un sistema di produzione vegetale, cover crops o sovesci possono essere utilizzati come break crops, che interrompono questa sequenza e quindi riducono il rischio delle malattie trasmesse dal suolo. Una break crop è una cultura che non ospita le stesse malattie delle colture principali e quindi interrompe il ciclo della malattia. Maggiori informazioni su questo argomento sono fornite nel video Best for Soil sulla rotazione delle colture. Le piante in rapida crescita e con radici profonde possono essere utilizzate per fissare l'azoto che viene mineralizzato nel terreno durante i caldi mesi estivi e autunnali. Ciò riduce la lisciviazione dei nitrati nelle acque sotterranee durante il periodo invernale. Le cover crops proteggono la superficie del suolo da vento e pioggia, riducendo fortemente l'incidenza dell'erosione. Migliorano inoltre l'infiltrazione d'acqua, il che è particolarmente utile in caso di forti piogge. Inoltre il denso apparato radicale delle cover crops stabilizza il suolo, aspetto particolarmente importante nei terreni in pendenza. Coprire il suolo durante l'inverno è un obbligo legale chiamato greening. Con la giusta scelta della cover crop, questo obbligo può essere utilizzato per migliorare lo stato di salute del suolo. Rispetto ad altri metodi di controllo, quali la sterilizzazione a vapore o l'uso di sostanze chimiche, l'uso di cover crops in molti casi è più economico. I sovesci e le colture intercalari restituiscono nutrienti facilmente disponibili al suolo. Le colture intercalari, che vengono coltivate per evitare perdite di nutrienti, in particolare perdite di nitrati, aiutano a risparmiare denaro, poiché è necessario applicare meno fertilizzante alla coltura successiva. La crescita delle cover crops migliora la struttura del suolo. Le specie a radice profonda con grandi radici a fittone, come le colture di brassica, migliorano il tasso di infiltrazione dell'acqua e quindi riducono la perdita di acqua piovana attraverso il deflusso. Anche una cover crop in rapida crescita richiede almeno due mesi di coltivazione in estate e un periodo molto più lungo durante la parte più fredda dell'anno. Durante questo periodo, la terra non può essere utilizzata per colture che potrebbero essere raccolte e vendute. Per alcune cover crops speciali, come la calendula o per varietà specifiche, la disponibilità di sementi può essere un problema e dovrebbe essere pianificata con largo anticipo. Quando un agricoltore coltiva una nuova cover crop, la mancanza di conoscenza della coltura e la indisponibilità di un'attrezzatura di semina corretta possono costituire un grave ostacolo alla riuscita della coltivazione. In alcuni paesi esistono normative che limitano l'incorporazione di sovesci o l'impatto su altri aspetti agronomici. Le cover crops e i sovesci possono essere piante ospiti di agenti patogeni o nematodi presenti nel terreno che possono anche avere la capacità di infettare le colture principali coltivate durante la rotazione. In tali casi possono aumentare invece che diminuire la presenza e il rischio di malattie trasmesse dal suolo. Quando le cover crops non vengono rimosse o incorporate prima della formazione dei semi, esse stesse possono diventare erbe infestanti, in particolare le specie erbacee. Il database Best for Soil per piante ospiti e non ospiti di patogeni comprende anche una vasta gamma di specie per cover crops e sovesci. Ciò consente agli agricoltori di includerle nella pianificazione di rotazioni culturali robuste e consolidate. Grazie a tutti.